Il titolo del libro è certamente un libro forte ma molto reale, molto vero per alcuni aspetti, nel senso che per alcuni tipi di tumori noi ormai abbiamo trattamenti con farmaci che stimolano il sistema immunitario, quindi di immunoterapia, che hanno la capacità di darci dei risultati estremamente importanti nell'aumentare la sopravvivenza dei pazienti e quindi in qualche maniera con alcuni tipi di tumori il cancro ha già perso, ma anche perso perché negli ultimi tre decenni abbiamo imparato moltissimo come le cellule tumorali interagiscono con le difese immunitarie del paziente e quindi sappiamo sempre di più prospetticamente come migliorare l'efficacia del sistema immunitario dei pazienti facendo sì che sia esso poi a distruggere le cellule tumorali e a tenere sotto controllo il cancro.